Ringrazio l'associazione Cibes per questo bel momento che ha regalato la città di Piceglie, un momento di promozione, un momento di solidarietà, di civiltà e di grande spirito di programmazione. Mi piace sottolineare che è importante che ci sia un confronto di un risuardo nazionale di lettura della città di Piceglie, dove istituzioni pubbliche e associazioni di carattere privato interagiscono per l'interesse comune, che è quello che lo lascia assimilare in questo campo non solo dalle motività e dalle improvvisazioni, come magari certi catastrofi che purtroppo come di recente è capitato, possono colpire il nostro territorio, ma anche in tempi non sospetti, quando tutto è caldo bisogna pianificare e andiamo a vedere come anche a Piceglie, se è stato questo momento di confronto, dove è stato detto anche come rappresentante della Cibulia, il vicepresidente della Cibulia ha dato un suo contributo per l'involgimento degli enti locali, dei sindaci, è importante che si stia insieme, che Regione, Stato e i comuni, che sono le istituzioni territoriali, possano governare insieme i momenti di pianificazione e programmazione in tema di protezione civile. Piceglie è stato un esempio di essere comuni che ha portato il piano della protezione civile, nei primi anni della mia amministrazione, oggi sono contento di poter dire che la Piceglie ha fatto un messaggio di tuttura nazionale importante, di grande città, di collaborazione e di grande accoglienza, spero che il Cibulia sia stato soddisfatto a questa importante associazione nazionale, perché l'umanità che lo esprimono è stata recepita dalla città di Piceglie, che ha voluto solidamente corrispondere a un grande affetto con un'organizzazione estero puntuale di questa manifestazione all'interno del nostro piano per il Pato. Grazie per la visione!